attenzione bella a tutti ragazzi oggi siamo qui connexion sul Clash Royale perché voglio dirvi che potrebbero arrivare video strepitosi fra 20 fra pochissimo fra 20 baule trovo baule gigante fra 22 baule epico e fra 33 baule magico per non parlare che fra 90 e 91 baule super magico e leggendario quindi se arriviamo a 4 like in questo video vi porto un chest opening di inizialmente di baule gigante epico e magico insieme e poi super magico e leggendario detto questo andando doniamo la valchiria richiediamo l'inferno facciamo sto mini chest opening cioè apriamo sto baule qui due giganti e 6 minascazzoni ora giorno della guerra andiamo a fare il nostro mazzo da guerra questo mettiamo questa la mettiamo assoluta madonna mettiamo questo dai non potrei giocare con il gigante del regalo aspetto metto questo metto la fireball la scintilla non bastano gli arcieri e le peggie il mastino lo voglio togliere cosa posso un barbari quattro punto qua ma che cosa ok ragazzi siamo partiti e dire di partire con una scintilla e gigante royal davanti subito così andiamo subito lui ci mette una fornace e noi pusciamo pusciamo dai che non puoi fare niente no vabbè ma questo secondo me si è già reso no non ci credo no caspiterina eh peccato peccato ah mi ha laggato mi ha laggato mi ha laggato attenzione ragazzi ho fatto un predito ho buttato le frecce ha preso sia l'orda di sgheri che l'orda di scheletri e andiamo a prendere la prima torre e ci vediamo con il prossimo aggiornamento attenzione ragazzi attenzione la scintilla non riesce ad itare dieci no sette sei cinque quattro tre due uno e per poco non prendiamo nemmeno la seconda torre quindi spero che questo video vi sia piaciuto abbiamo portato a casa la vittoria nella war lasciate quattro like se volete il cesto penning più grande che del mio canale fina torre e ci si becca al prossimo video ciao ciao